non la vedremo in piazza il libro avrebbe dovuto originariamente essere scritto a quattro mani da me e da una giornalista che poi nel tempo è diventata amica che era Maria Giovanna Maglie che purtroppo è scomparse e a cui abbiamo dedicato quando abbia scelto la dedica oltre a Maria Giovanna Maglie ho ritenuto doveroso dedicare questa fatica a Roberto Maroni e a Umberto Bossi che hanno cominciato tutto perché se non avessero cominciato loro a Umberto Bossi e a Roberto Maroni nell'ordine cronologico perché se non avessero cominciato loro oggi voi sareste altrove e io starei facendo altro probabilmente il mestiere che ci ho scritto sulla carta d'identità che è giornalista professionista poi si può lavorare o si può fare giornalista quindi dipende però hanno cominciato tutto e quindi per me in politica come nella vita la gratitudine non è la lealtà e la riconoscenza non sono la merce del giorno dopo ma io sarò grato finché campo perché mi hanno cambiato la vita Umberto Bossi e Roberto Maroni e la comunità della Lega perché quando ti vogliono tirarla sola mettono green ormai quando c'è scritto green devi capire che degli agenti non c'è scritto fino alla postina sostanzialmente sì grazie Massimo parlo di Bossi, di Maroni, di Feltri e di Fini che non sempre sono stati generosi nei miei confronti però troppo comodo invitare e lodare solo quelli che ti dicono bravo e bello nei miei 33 anni di militanza politica ho capito che mi sono più preziosi quelli che quando sbaglio mi dicono che sto sbagliando piuttosto che quelli che mi dicono che sto facendo bene anche se pensano che io stia sbagliando la prima parte c'è in occasione c'è in occasione l'autosità di cindro ma è l'autosità di cindro ora è la mia a questi anni la prima parte c'è in occasione c'è in occasione a questi anni ma è la mia Grazie.